Sale a 24 il numero dei ragazzi abruzzesi bloccati a Corfu. Al gruppo dei 14 di Montesilvano, Pianella e Pescara si aggiungono altre 10 studentesse del liceo scientifico da Vinci di Pescara, fresche di maturità, che dall'11 luglio sono bloccate al Binzanin Hotel di Cherchira per completare i periodi di isolamento e quarantena nella struttura alberghiera Covid insieme a tanti altri italiani. Le 10 compagne di classe, 6 positive e 4 negative, partite dopo la maturità, sono isolate nel Covid Hotel dell'Isola Greca, due per stanza, come racconta anche Cinzia Cordesco nelle pagine del quotidiano al centro di oggi, contando i giorni che mancano alla fine della quarantena e dell'isolamento, mentre dall'altra parte dell'Adriatico le loro famiglie a casa sono in stretto contatto con la Farnesina per assicurarsi che tutto proceda per il verso giusto. Intanto, per il gruppo dei 14 di Montesilvano, Pianella e Pescara, oggi è il giorno di un nuovo giro di tamponi, racconta la madre dello studente lavoratore di Pianella, contattata telefonicamente. Ieri siamo riusciti a far arrivare in hotel le medicine di cui i nostri figli hanno bisogno, racconta questa mamma, e nonostante il nostro interessamento per far entrare nella struttura ricettiva ai medicinali, abbiamo dovuto firmare una liberatoria con tanto di autorizzazione a far prendere ai nostri figli le medicine che gli servono per curarsi. La mancanza di assistenza era già stata segnalata alle proprie famiglie in Abruzzo dai giovani bloccati al Binzannin Hotel di Cherchira. Chi peggiora viene portato in ospedale con l'ambulanza per essere curato e poi rispedito al Covid Hotel, dove il tempo passa più lentamente in attesa di un agognato ritorno a casa.